Lei c'è bisogno di qualcuno che gli faccia la spesa, gli prepari qualcosa da mangiare. Se mi permette, quel per giovane che stava qua l'andrasera quando avete trovato i ladri, quello mi pareva caruccio. Si gli vuole bene. Ma perché mi faccia affari mia? La prima cosa che face capire. La prima cosa che face capire. La prima cosa che aveva, lascia la piano. La se schiava. La prima cosa che ha avuto il bambino. La cosa che aveva, Grazie a tutti.